Bene, allora buonasera a tutti di nuovo, sono Paola Acquisti, mi occupo del coordinamento del progetto di Family Academy e come vi dicevo abbiamo come nostro ospite il dottor De Pascalis che in realtà è una persona attivissima perché fa tantissime cose, intanto ha una laurea in scienza della nutrizione, poi in scienze motorie e poi anche in psicologia comportamentale cognitiva, nonché scrittore, ha scritto tanti libri, fondatore e responsabile della formazione e divulgazione scientifica di non solo fitness e direttore responsabile della rivista Scienza e Movimento. Bene, questa sera parleremo dell'ortoresia o meglio quando il cibo diventa ossessione, può gravemente debilitare sul piano fisico ed emotivo e vedremo quali sono i campanelli d'allarme, il ruolo della famiglia e dell'ambiente. Lascio la parola al dottor De Pascalis. Buonasera a tutti, vi ringrazio per essere qui, cercherò di affrontare questo argomento in una modalità che non sia troppo pesante. Dicevamo l'ortoresia quando il cibo diventa una ossessione, questo può accadere e accade anche più spesso di quanto non si creda ed è abbastanza preoccupante il fatto che un'alimentazione che invece dovrebbe condurci verso un miglioramento della nostra condizione anche di salute, anche emotiva, invece ci possa esporre a circostanze che sono diametralmente opposte. Siamo abituati a sentir parlare di disturbi del comportamento alimentare con riferimento ad altri tipi di problematiche. Spesso sentiamo parlare dell'anoressia, sentiamo parlare della bulimia. Sono in qualche modo entrati nel nostro linguaggio e passatemi il concetto che dopo chiarirò meglio, siamo maggiormente disposti ad accettarle. Ma quando parlo di accettazione non mi riferisco a qualcosa di positivo, ma mi riferisco al fatto che quando vediamo ad esempio una persona estremamente magra, ci viene spontaneo dire sembra una persona anoressica. E questo, al di là del fatto che sia corretto o meno fare questo tipo di valutazioni, ci fa comprendere che sia una condizione che è entrata nel linguaggio comune. Quindi la individuiamo e quindi questa estrema magrezza la associamo a un processo non positivo. E in effetti l'estrema magrezza non è certamente un aspetto positivo. Al contrario invece l'ortoressia, soprattutto nella fase iniziale, può dar luogo perfino ad un miglioramento dell'aspetto fisico. Quindi non soltanto non siamo propensi a ritenere che un soggetto che evidentemente anche fisicamente appare in buona salute possa avere una problematica. Ma dato che in genere queste persone vengono perfino ritenute più capaci di rispettare delle regole in qualche modo, vengono anche stimate. Per cui c'è un alimentare, è proprio il caso di dirlo, una patologia. Quindi le persone che purtroppo hanno questo tipo di caratteristica non soltanto non se ne rendono spesso conto in prima persona, ma chi sta accanto a queste persone o chi le vede non riconosce la patologia, anzi la vede quasi come una condizione positiva. Ed è proprio la distanza che c'è tra l'inizio del problema e il manifestarsi delle conseguenze, quello che non fa altro poi che incrementare la possibilità. Perché per ortoressia, così veniamo un attimo al dunque, per ortoressia si intende proprio quel processo attraverso il quale le persone diventano sempre più dipendenti da alcuni aspetti riguardanti l'alimentazione, fino a farla diventare un'ossessione. Quindi un'ossessione che si estende anche agli oggetti con i quali il cibo viene toccato, viene lavorato. Quindi per esempio si ha timore che possa perfino venire contaminato da alcuni prodotti con i quali andiamo a toccare gli alimenti. E si comincia a dividere gli alimenti in alimenti buoni e alimenti cattivi. Alimenti buoni e alimenti cattivi però senza un riscontro scientifico, ma sulla base di vari tipi di opzioni che, ripeto, di scientifico hanno ben poco e purtroppo nel lungo periodo, nel lungo termine, piuttosto che migliorare la condizione del soggetto, fanno esattamente il contrario. Fanno esattamente il contrario perché poi si raggiunge una sostanziale monotonia alimentare. Io vi sto facendo vedere le slide, in genere non le seguo in maniera precisa, poi man mano andrò avanti, le cose già dette magari non ve le ripeterò, ogni tanto do uno sguardo soltanto per essere certo di aver approfondito l'argomento. Quindi se mi vedete più andare a braccio che altro, la ragione è questa. Dicevo, questo tipo di approccio con gli alimenti e con la nutrizione fa dividere gli alimenti in buoni e cattivi, ma questa divisione che è assolutamente impropria e arbitraria molto spesso porta a un impoverimento anche di quello che noi andiamo a mangiare. Molto spesso la condizione di ortoressia si associa ad un'altra situazione che è denominata vigoressia, che brevemente vedremo, e che riguarda invece un altro tipo di comportamento che rientra nella sfera di disturbi ossessivo compulsivi, ed è la dipendenza dall'attività fisica e in particolar modo da quelle attività che sono finalizzate all'aumento dei volumi muscolari. Non esiste nella letteratura scientifica nessuno studio, nessun articolo che parla di ortoressia che non parli anche di vigoressia o comunque di dipendenza dall'attività fisica. Questo perché quando ci si avvicina poi ad alcuni approcci si tende poi a esagerare rispetto ad alcuni limiti e l'alimentazione, ripeto, diventa una sorta di talismano. Visto che ho citato il discorso per esempio dell'allenamento, che anche questo normalmente è una condizione assolutamente positiva e anzi da semmai stimolare ulteriormente. Così come l'attenzione per il cibo, normalmente è una cosa estremamente corretta. Le persone fanno la spesa, non sanno cosa comprano, non leggono neanche le etichette. Questo è totalmente sbagliato. Il problema è quando la lettura delle etichette diventa invece una ossessione. Per definirla con le parole di Olivardia, il ricercatore che ha per primo parlato di vigoressia in questo caso, lui diceva, dice, se vi lavate le mani 10 volte al giorno, 15 volte al giorno, siete delle persone pulite. Questo è assolutamente positivo rispetto a non lavarle. Ma se vi lavate le mani 200 volte al giorno, evidentemente c'è un problema alla base. Quindi porre attenzione all'alimentazione è sicuramente positivo, farla diventare invece un concetto esasperante, totalizzante, al punto poi da limitare anche la sfera sociale. Ecco, lì vuol dire che il soggetto comincia ad avere un problema. Limitare la sfera sociale è un punto essenziale, perché poi quello che fa il vero discrimine tra un soggetto che ha una condizione patologica e un soggetto che non ce l'ha è la serenità con la quale affronta gli elementi conviviali. Noi facciamo parte della cultura mediterranea, quindi anche lo stare a tavola. Se io sono abbastanza rigido quando sono da solo, ma ben volentieri se mi invitano a cena posso mangiare più o meno qualsiasi cosa, o comunque quello che non mangio non lo faccio per un preconcetto, allora molto probabilmente non ho nessun tipo di problema, sono semplicemente una persona attenta. Ma l'ortoressia tende invece a portare gradualmente all'isolamento. Isolamento che si concretizza in vario modo. Per esempio all'inizio le persone cominciano ad essere più selettive sugli alimenti, poi cominciano ad essere più selettive anche sulle persone da frequentare, perché ritengono che soltanto chi mangia come loro è meritevole in qualche modo di attenzioni, è meritevole di un dialogo ed è meritevole di stare con loro. Altre volte assistiamo perfino a persone che escono ma si portano il cibo da casa e pretendono di portarlo anche nei luoghi della ristorazione, perché ripeto, per loro fa parte di una sorta di religione. Non vorrei utilizzare termini che poi possono in qualche modo offendere qualcuno, ma parlo di religione inteso come una forma di esasperazione, di fondamentalismo, che poi evidentemente non rientra neanche per chi è credente all'interno della sfera religiosa in senso stretto. L'ortoressia, il primo a attualizzarla, fu Stephen Bratman, nel lontano ormai 97, e Bratman la identificò ponendo attenzione a quello che lui per primo faceva, cioè il fatto che tendeva a fare un certo numero di atti masticatori, masticava le cose a lungo contando il numero di atti masticatori prima di delutire. Anche questo, se ci pensiamo, entro alcuni limiti è positivo, perché noi dovremo masticare, mangiare con calma, non ingurgitare, renderci conto di quello che mangiamo, ma se io ogni boccone devo fare 23 atti masticatori e né uno di più né uno di meno, altrimenti me ne vado in crisi, evidentemente comincia anche qui ad esserci un problema. Quindi proprio dallo studio di quello che accadeva su di lui, gradualmente è riuscito a teorizzare questa situazione. E infatti quando noi andiamo poi ad osservarlo a livello statistico, in realtà molte delle persone che hanno dei ruoli o che svolgono delle professioni che dovrebbero essere di miglioramento della situazione, sono poi loro stesse vittime dell'ortoressia. Presso i nutrizionisti, presso gli psicologi, presso i kinesiologi c'è un tasso di ortoressia abbastanza alto. Quindi, giusto per mandare avanti un po' le slide, dato che le ho predisposte, parliamo di ortoressia quando diventa ossessivo il controllo delle etichette, abbiamo una grande attenzione ai metodi di coltivazione e di lavorazione, che normalmente sarebbe da incoraggiare, ma che qui diventa monopolizzante rispetto al pensiero. La giornata comincia ad essere scandita dalla pianificazione del passo successivo e non perché sono preoccupato di cosa fare da mangiare eventualmente a chi vive con me, se sono io quello che si occupa di cucinare, ma perché ho proprio l'ossessione di andare a scegliere gli alimenti, di andare a selezionare quelli che è possibile individuare e quelli che è possibile introdurre, scusate, quelli che non è possibile introdurre. E abbiamo, vi dicevo, proprio una latenza dal momento in cui lo avvio, fino a quando la situazione non si cronicizza. Purtroppo nel periodo storico in cui ci troviamo a vivere c'è anche un problema che non fa altro che alimentare in realtà tutti quanti i disturbi di tipo ossessivo-compulsivo e tra questi anche l'ortoressia. Ed è l'uso dei social network, che tante belle cose realizzano, possono mettere in comunicazione persone distanti, anche distanti non solo fisicamente, ma anche persone che normalmente non avremmo potuto raggiungere e che spesso invece ci dedicano la loro attenzione, ma purtroppo fa sì che tante notizie false e tanti concetti sbagliati continuino a replicare. Non solo, ma come ormai quasi tutti sanno, i social network sfruttano un algoritmo, cioè un sistema che tiene traccia di cosa io visito, di cosa mi piace, di quali sono gli aspetti sui quali permango maggiormente, le notizie che mi attraggono maggiormente, e quindi comincerà poi a ripropormi sempre più questo tipo di temi. Questo cosa genera? Genera un problema altrettanto grave, perché io comincio a pensare che il mio modo di interpretare il cibo in questo caso è il modo corretto, perché tutti quanti quelli che vedo sui social lo fanno esattamente come me, quindi comincio a credere che sia normale. Se invece vivessimo senza social non sarebbe certamente meglio, ma per alcuni aspetti, per alcuni disturbi come questo, in realtà sì, perché mi relazionerei molto più spesso con le persone che trovo al di fuori e non sono selezionate a monte, quindi prima o poi qualche piccolo scontro, qualche piccolo diverbio, dibattito, discussione nascerebbe. Invece in questo caso è tutto quanto lineare esattamente così come credo o voglio che sia. Come vi dicevo prima, anoressia, bulimia sono un po' più accettabili all'interno di quelli che sono disturbi del comportamento alimentare. Sull'ortoressia c'è anche un po', ecco, visto che prima parlavo di social, un discorso complottistico. Purtroppo il dramma peggiore dei social network purtroppo è proprio il complottismo su ogni cosa, non è mai come appare, c'è sempre qualcuno che due minuti dopo, qualunque cosa sia accaduta, sa che ci sono dei segreti intorno, che lui con il cellulare dalla cucina di casa è riuscito a scoprire e gli altri invece no. Il complottismo riguardo l'ortoressia, ma anche riguardo la vigoressia, nasce su una base molto semplice, cioè c'è l'idea che si voglia far mangiare male le persone, quindi si voglia distogliere coloro i quali prestano attenzione a quello che mangiano, perché in questo modo si ammaleranno e quindi potranno fare ricorso a delle cure farmacologiche, perché poi lo spauracchiano, sono sempre le case farmaceutiche, case farmaceutiche grazie alle quali la vita media è passata da 30-35 anni a quella che abbiamo oggi, che fortunatamente auspichiamo sia sempre più lunga. Ma a parte questa parentesi. Quindi il problema è un altro, non è che qualcuno vuole distogliere dall'attenzione, anche perché se ne presta sempre troppo poca. Il problema è quel piccolo nucleo di persone che invece diventa vittima sino al punto da farla diventare una ossessione. E infatti, se andiamo a vedere quali sono i tratti della personalità di chi ha questo tipo di caratteristiche, è proprio un tratto di perfezionismo, un'abnorme attenzione ai dettagli, alle regole, tende ad avere un pensiero molto rigido, quindi facilmente riesce a interpretare, a comprendere. Manca proprio quello che viene chiamato anche il problem solving flessibile, quindi la possibilità anche di risolvere altri tipi di problemi. C'è una sorta di rigidità cognitiva, quindi non si è in grado di adeguarsi alle situazioni. Quindi questo significa che poi alla fine buona parte, sebbene non tutti, di coloro i quali si avvicinano all'ortoressia hanno già un tratto della personalità caratteristico. Ma altre volte, come accade anche per la vigoressia, che non voglio totalmente dimenticare di citare, riguarda anche persone che magari hanno avuto una adolescenza in cui erano emarginati o erano vittime di bullismo, quello che oggi chiameremo in qualche altro modo, oltre che bullismo, magari venivano etichettati per il loro aspetto fisico, quindi anche del body shaming. Queste persone che hanno vissuto spesso in questa modalità la loro adolescenza hanno un riscatto attraverso l'ortoressia. Perché? Perché le persone sono sempre curiose quando ci vedono mangiare in un determinato modo e quindi ci chiedono ma come mai? Quali sono i vantaggi? Quindi una persona che ha vissuto un'adolescenza magari da emarginato, comunque da persona che era ai margini, non nel senso di emarginato, in senso stretto, si rivede invece, si vede ad un tratto al centro dell'attenzione, una persona che ad essa interesse, alla quale gli altri fanno domande e questo purtroppo non fa altro che alimentare ulteriormente il problema, perché si cerca sempre di alzare l'asticella, di creare qualcosa di più complesso in modo da suscitare ulteriore stupore negli altri e essere ancora di più al centro dell'attenzione. La stessa cosa accade con la fisicità, quando si esagera in alcuni contesti lo scopo è anche quello, quindi si passa da una condizione che dovrebbe essere auspicabile sia sotto il profilo estetico, che è anche sotto il profilo salutistico, ad una condizione che poi comincia a diventare invece problematica. Quindi si ha proprio una vera ossessione per quello che può virtualmente contaminare il soggetto. All'inizio si parlava, ai primi studi svolti in Italia, si parlava dei 300.000 casi di ortoressia, quindi circa il 10% del totale dei disturbi del comportamento alimentare. In realtà il trend è in forte crescita, anche perché l'ortoressia sappiamo che è anche un elemento assoggettato ad una sorta di residuo patologico, cioè persone che magari migliorano rispetto ad altri disturbi del comportamento alimentare, poi emerge come migrazione diagnostica e come residuo patologico proprio l'ortoressia. Ortoressia che si fa fatica anche a comprendere quando sta nascendo, perché è sempre una sottilissima linea tra quello che è consigliabile e quello che, ripeto, diventa ossessione. Pesarsi, ad esempio. Pesarsi è una buona pratica, dovremmo farlo, dovremmo controllare il nostro peso, perché espone tutta quanto una serie di rischi, ma pesarsi tre volte al giorno, pesarsi ogni giorno, sono tutte quante procedure che in qualche modo stanno creando le premesse per un possibile problema. Ci sono una serie di regole, di situazioni, di punti che ci fanno ancora di più avere una individuazione precoce della problematica. Per esempio, qui ce ne sono alcune elencate, se il tempo dedicato al cibo è superiore a tre ore al giorno. Ora, se io non sono uno chef, e probabilmente anche uno chef stellato, difficilmente dedico più di tre ore al giorno a pensare al cibo, perché diventa un pensiero intrusivo. La scelta dei cibi non avviene più per il gusto, quindi non mangio qualcosa che mi piace, ma per i supposti benefici posseduti. A parte anche questo viene molto enfatizzato. Ormai ogni cosa che mangiamo, mangio le mandorle perché ho sentito che fanno bene a qualcosa, mangio l'uva, visto che c'è anche nell'immagine, perché ho sentito che fa bene a qualcos'altro, le patate perché fanno bene a qualcosa. Però poi non sappiamo esattamente a cosa. In genere è proprio il mix di quello che contengono. Anzi, talvolta, gli alimenti ci fanno bene perché ci evitano di introdurre altro. La stessa frutta, per esempio, che è innegabile, ovviamente, che faccia bene, ma ci mancherebbe altro, possiede tutta una serie di vitamine, di antiossidanti, di sali minerali, ci consente di incrementare la quantità di acqua che introduciamo. Ma pochi sanno che i vantaggi della frutta sono anche legati al fatto che, introducendo più frutta, introduciamo probabilmente meno di qualcos'altro. Introduciamo, per esempio, meno carboidrati, ma soprattutto meno proteine, meno proteine animali, che hanno una quantità di ferro che è un proossidante che talvolta comincia a diventare eccessivo, i metodi di cottura altrettanto. Quindi i vantaggi non sempre sono dati da quello che sto introducendo. Ma in questo caso il gusto viene proprio messo da parte. Il controllo del cibo diventa proprio uno strumento per controllare la propria vita e c'è uno stato di sofferenza emotiva se non si rispettano quelle che sono le regole che ci si è imposti. I pasti sono programmati con largo anticipo, c'è tutto quanto un rituale e gli altri, quelli che non mangiano come noi, sono percepiti proprio come inadeguati rispetto alla situazione. Per questo, dicevo, comincia ad avere i contorni proprio di un fondamentalismo religioso. Infatti potremmo parlare proprio di una nuova forma di religione. C'è l'abbandono delle religioni classiche, tra virgolette, e più ci si avvicina a questo. Le pratiche sono assolutamente antiscientifiche. Prima vi parlavo del timore che le posate possano contaminarle, idem la carne. Quindi ogni elemento può concorrere a questo, sebbene nessuno preso individualmente, è la chiave di volta del problema. Vi dicevo, può essere definita una nuova religione? Sì, perché molto spesso chi, per esempio, pratica questo è privo di conoscenze scientifiche sull'alimentazione. Vede quello che passa, quello che passa sul cellulare e pensa di averle acquisite, ha più un atteggiamento fideista. Ecco perché c'è questo parallelismo con la religione. Ma non è una critica, né confrontare delle religioni. Io non vorrei essere frainteso su questo punto. Il fatto di ribadirlo non è una critica al concetto religioso. Ma come per le religioni, il fatto di eventualmente non introdurre quello che uno dovrebbe ci fa sentire sporchi, impuri e un mezzo, quindi la corretta alimentazione per purificarsi. Ma se pensiamo a questi due aspetti, la citazione delle religioni, il peccato legato al cibo e la purificazione che passa attraverso il digiuno, in realtà quasi tutte le religioni, quasi tutte le religioni molto diffuse, prevedono dei periodi, per esempio, di digiuno o l'astinenza ad alcuni alimenti nello specifico. E molto spesso il digiuno è stato visto come un modo per espiare i peccati. In questo caso, purtroppo, soprattutto le donne giungevano anche a situazioni estreme nell'idea di avvicinarsi in qualche modo ad una condizione di elevazione. L'ortoressia ha anche però degli aspetti controversi riguardo la sua collocazione anche scientifica, quindi anche chi se ne occupa poi fa un po' fatica anche ad inquadrarla. Ma normalmente chi ne è vittima, dicevo, non ha delle basi culturali. E questo vale per tutti, quindi chiunque è ortoressico, diamo per scontato che non abbia una buona base culturale? No, in realtà non è così. Perché ci sono delle eccezioni, cioè ci sono dei soggetti che hanno buone, ottime basi culturali, ma talvolta sono poco inclini a comprendere anche la complessità delle cose. O altri, e qui mi spiace dirlo, che magari sono sul viale del tramonto per altri aspetti che li riguarda anche professionalmente e cavalcano l'onda di una scelta alimentare anche per far parlare di sé, anche per tornare in auge in qualche modo. Ma la maggior parte, in realtà, soffre di quella che è una distorsione cognitiva che viene chiamata l'effetto Dunning-Kruger, qualcuno di voi lo conoscerà già, è quell'effetto che ci fa credere quanto meno siamo competenti, tanto più invece di saperne su un argomento. In genere le persone molto molto preparate su un argomento sono piene di dubbi, sono piene di domande e invece chi ha meno competenze spesso pensa di sapere tutto. Questo è proprio un aspetto affascinante per alcuni versi, tragico per l'altro. Una persona molto competente, si rende conto della vastità di un argomento e quindi è sempre con un dubbio. Se parlate con un appassionato di auto e gli chiedete se è meglio in assoluto l'auto benzina, l'auto diesel, gli tirerà fuori tutta una serie di eccezioni, tutta quanta una serie di ma, questo può essere meglio, questo può essere peggio, tra il cambio automatico e il cambio manuale. Per ogni cosa un esperto, ripeto ho fatto l'esempio delle auto, vi troverà una serie di possibili obiezioni, di punti critici. Una persona invece che è esperta non è, magari conosce tre cose di un'automobile e quindi è convinta che il meglio sia in genere la sua, quindi quello che lui fa. La stessa cosa accade nell'ambito dell'alimentazione. Come vi dicevo prima, sono affetti da ortoressia purtroppo anche molti soggetti che fanno parte del panorama che dovrebbe invece aiutare gli altri a non entrare in questo circolo o perlomeno aiutarli anche ad uscire. Presso gli studenti di dietetica per esempio abbiamo un tasso che oscilla tra il 12 e il 34%, alcuni parlano anche di tassi più elevati, gli studenti di scienze motori separati al 25%, gli istruttori di yoga si arriva fino all'86%, scienze della salute al 67%, quindi come vedete ci sono una serie di elementi che ci fanno comprendere che poi siamo un po' tutti esposti ad ortoressia. E anche qui abbiamo delle forme un po' più lievi, forme un po' più maniacali come per tutte quante le problematiche e sino a forme estreme, prima ve ne ho citate alcuna e già nei primi del 1800 ci sono dei documenti che parlano per esempio di donne che si percepiscono troppo grasse e si parla proprio di un alone mistico dal 1600 al 1700, quindi anche qui come vi dicevo c'è una correlazione sempre un po' religiosa. Prima vi ho parlato della vigoressia, cercherò di essere più breve su questo punto sebbene alcune cose sono molto interessanti. Anche questa, vi dicevo, coesiste molto spesso con l'ortoressia ma riguarda la dipendenza compulsiva da attività fisica, ogni altro aspetto della vita passa in secondo piano. Qui da un studio che avevo fatto personalmente nel 2013, quindi di anni ne sono passati ormai una decina e il campione verosimilmente è aumentato, si parlava di circa 60.000 italiani coinvolti, quindi i numeri sono sempre abbastanza significativi. E si parla in questo caso anche qui di una forma di compensazione di fronte alle insicurezze. È descritta nel 1993 per la prima volta e anche qui è caratterizzata all'inizio proprio dall'isolamento sociale. È un elemento determinante che ci fa capire la differenza tra una sana passione, uno sano stile di vita e invece avvicinarsi a situazioni che positive non sono più. I maschi nel caso della vigoressia, le donne nel caso della ortoressia, sebbene questo era più vero 10-20 anni fa, rappresentano le casistiche maggiori, quindi gli uomini soprattutto sul versante della vigoressia, le donne soprattutto sul versante dell'ortoressia, fino a 20-25 anni fa. Oggigiorno i numeri pressoché si equivalgono, ma ripeto, considerato l'aspetto maschile parliamo di soggetti maggiormente esposti nella fase dai 25 ai 35 anni di età, ma anche dai 18 ai 24 e sempre più spesso assistiamo a delle manifestazioni tardive negli over 40. Questo è spiegato anche da un altro aspetto. Una volta le persone a 40 anni si percevivano e forse erano già anziane, non sto parlando certamente di mezzo secolo fa, sto parlando di un periodo ancora precedente, oggigiorno a 40 anni una persona è giovane, non ha ancora a volte, ora questo magari è un estremo, a volte non è uscito neanche da casa dei genitori, ripeto questo è un estremo, ma è fondamentalmente giovane. È giovane ma comincia a percepire qualcosa che cambia nel corpo e allora si innesca quella dipendenza dall'attività fisica che viene chiamata sindrome di Highlander. La sindrome di Highlander, cioè di coloro i quali che pensano di poter riportare indietro le lancette dell'orologio semplicemente allenandosi e allenandosi in maniera estenuante, solo che l'allenamento estenuante non va bene su un ventenne, non va bene su un trentenne, ma ancor meno su un quarantenne. Quindi anche questo aspetto poi crea dei problemi e molto spesso si presenta assieme alla ortoressia. In entrambi i casi l'ambito familiare può giocare un'influenza marcata, perché fin da ragazzini si possono creare le premesse affinché si sviluppino i problemi. Ad esempio i ragazzini per l'ambito sportivo, che molto spesso non vengono presi in grande considerazione in famiglia, le loro esigenze, salvo quando si tratta di premiare un successo sportivo, o sull'ambito dell'alimentazione, quando per esempio l'alimentazione viene utilizzata anche come premio, come strumento per dissuadere da un approccio. Se fai il bravo ti compro il gelato, se fai il bravo ti compro le patatine, se non sei bravo questa sera devi mangiare i cavoli. Ma questo non è un modo per insegnare la corretta educazione alimentare. Questo è un modo per cominciare a invece diseducare il soggetto, perché comincerà a legare alcuni cibi al premio, altri alla punizione. Quindi come possiamo poi aspettarci che da adulto mangi volentieri le verdure, se per tutta quanta la fase della fanciullezza sono state legate ad una penalità e invece le patatine fritte erano un premio. E' chiaro che poi anche il ruolo genitoriale in questo ha cominciato a creare un problema. E anche quando si fanno le diete, nella pratica che ho tutti i giorni, ormai le persone e prassi che mi chiedono, ah ma poi avrò un giorno libero, un giorno in cui posso mangiare mentre facciamo la dieta, ma ci sarà il giorno in cui posso mangiare la pizza? Perché nell'ordine delle idee chi uno deve seguire la dieta sei giorni poi ha un giorno libero. Ma questa idea che hanno radicato i nutrizionisti è un'idea totalmente sbagliata, perché ci dà l'idea che la dieta sia una punizione, quindi io resto a dieta sei giorni una punizione, se sarò bravo, proprio come quando ero bambino, avrò il giorno libero. Non è così che funziona, perché la dieta, anche quando andiamo da un nutrizionista per farcela stilare, dovrebbe migliorare il nostro approccio con la vita e non punirci. Quindi non ci deve essere né una punizione e né un premio. Ci sono semplicemente dei giorni in cui riesco a seguirla meglio, dei giorni in cui, visto che siamo tutti quanti pieni da tanti altri fattori, la seguirò meno bene. Ma invece un approccio così rigido espone anche qui alla possibilità che nasca una condizione di ortoressia. In questa immagine è molto esplicativa della vigoressia, cioè di individui che sono anche fisicamente molto ben strutturati e continuano a vedersi molto magri. Il problema, quando si parla di ortoressia e di vigoressia, è che vengono anche banalizzate. Quando noi sentiamo in tv parlare di questi aspetti, lo si fa sempre con una grande faciloneria. E quindi si parla di integratori che vengono utilizzati in malo modo. Gli integratori non producono nessun tipo di problema. Gente che va tutti i giorni in palestra, non c'è nessun tipo di problema. Possiamo andarci anche tutti quanti i giorni. Magari le persone andassero tutti quanti i giorni. Quindi non è questo il modo, perché se noi lo affrontiamo in modo banale, la risposta sarà banale. Proprio oggi ascoltavo il TG5, tanto per non fare nomi e cognomi, hanno fatto un servizio sulla ginnastichina. La ginnastichina che dovrebbe essere una nuova forma di attività fisica che possono fare tutti per restare in forma. Qui si banalizza sempre. Non esiste la ginnastichina. Esiste l'attività fisica. Io la posso fare per un periodo di tempo più lungo, meno lungo, più intenso, meno intenso. Ma non mi invento un termine che non esiste per riempire due minuti di telegiornale. Di informazioni ce ne sono tante, se ne possono dare altre. I fattori predisponenti, vale per la vioressia, vale per l'ortoressia, sono gli stessi. E infatti si parla di fattori predisponenti, scatenanti e perpetuanti. Qual è la differenza? Quelli predisponenti sono quelli che ci espongono maggiormente ad avere poi un problema. Ve lo dicevo prima. Soggetti magari introversi, soggetti che hanno avuto delle problematiche nella fase dell'adolescenza. Quindi questi ci predispongono. Poi abbiamo dei fattori scatenanti talvolta, che possono essere anche situazioni che avvengono in famiglia, condizioni di forte stress, dei lutti. Ci possono essere delle situazioni che sono scatenanti. E poi abbiamo delle situazioni perpetuanti, cioè quelle che non ci consentono di uscire dal circolo vizioso. E in genere, in questi casi, può essere dato anche dalla grande attenzione che riusciamo ad ottenere da parte degli altri o frequentare specifici ambienti. Insomma, ci sono una serie di fattori. C'è quel bisogno esibizionistico che in qualche modo ci tiene intrappolati all'interno di questa situazione. Entrambe, quindi sia l'ortoressia che la vioressia, ci espongono poi a tutta quanto una serie di rischi. Perché prima abbiamo parlato genericamente di rischi, ma i rischi sono tanti. Perché quando per esempio mi concentro solo su pochi alimenti, visto che stiamo parlando per esempio di chi va in palestra, che tende a prediligere il riso in bianco, il pollo, le gallette di riso, poche altre cose, alla fine avrò un impoverimento di nutrienti, ma mi espongo anche ad una serie di rischi. Perché tutti questi alimenti, prese nella giusta quantità, non solo non creano problemi, ma sono assolutamente positivi. Ma quando io ho una dieta monotona comincio ad acquisire gli aspetti negativi che si sommano in maniera eccessiva. Il riso banalmente contiene arsenico, ma nessuno muore perché mangia un piatto di riso. Il riso va benissimo, ha tutta una serie di virtù, ma se io mangio riso, colazione, pranzo e cena, l'alternativa sono altre gallette di riso che oltre all'arsenico hanno anche la presenza di acrilamide, beh nel lungo periodo un problema lo sto creando. Mangiare un petto di pollo non è un problema, mangiare una... per chi naturalmente ha questo tipo di gusto, mangiare una fettina di carne non è un problema, ma se io lo faccio ogni giorno e magari la cuocio alla brace, beh i contaminanti che sono presenti cominciano a diventare preoccupanti, anche quelli che si depositano per effetto del processo di cottura. Lo stesso vale per i prodotti ittici che hanno una grande quantità, per esempio, a seconda della tipologia, possono avere anche grandi quantità di contaminanti come il mercurio e via discorrendo. Ma quando parliamo di vigoressia, vedete che sto rimbalzando da uno all'altro perché sono due concetti che sono molto intersecati l'uno con l'altro, c'è il discorso dell'influenza sociale. In questa slide potete vedere, per esempio, dei pupazzetti, le action figures con i quali si giocava negli anni 40, negli anni 50. Come potete vedere sono diventati via via sempre più muscolosi, sempre più voluminosi. Da quello che era un fisico nella norma, il fisico di un nuotatore magari, sono diventati sempre più con un aspetto, con delle sembianze da bodybuilder, ma da bodybuilder che fa uso di prodotti anabolizzanti. Se guardiamo un Batman degli anni 2000, non è un fisico che è possibile ottenere naturalmente, è un fisico che ha bisogno per forza di anabolizzanti. Quindi questo crea anche delle aspettative o meglio pone un livello, un obiettivo che non è fisiologicamente raggiungibile, ma per raggiungere il quale dobbiamo in qualche modo creare altri tipi di problemi. Vado avanti un attimo con alcune cose, con alcune slide che sono meno pertinenti o comunque riguardano un aspetto che vi ho già detto. Qui abbiamo una serie, per esempio, di altri, perché abbiamo una serie di criteri diagnostici, cioè quando uno dice, ma poi come faccio ad accorgermene? Me ne accorgo perché ci sono una serie di criteri diagnostici. Tra i tanti, per esempio, questo è quello delle 5P e significa quando i soggetti vanno a focalizzarsi sulla purezza degli alimenti, quindi diventa la cosa più importante per decidere cosa introdurre, la paura della contaminazione del cibo, la programmazione ossessiva dei pasti, pratiche di pulizia che lasciano il tempo che trovano o perfino possono essere pericolose, come l'uso di lassativi, l'uso di diuretici, le diete detox che non esistono, concetti di punizione, quindi faccio degli comportamenti compensatori se non rispetto le regole. Se ho mangiato un pacchetto di cracker in più, mi faccio due corse intorno all'isolato perché devo punire quell'azione, devo compensarla. Ecco, se cominciano ad esserci tutte quante, il soggetto è già in una fase, in uno stadio ben avanzato dell'ortoressia. Ortoressia, quando vi salto le slide, come in questo caso, che è sempre legata al concetto, molto spesso legata al concetto di vigoressia. Nella fase iniziale purtroppo non fornisce campanelli d'allarme, quindi si fa fatica a individuare il soggetto, a fare un intervento precoce di cui tanto spesso si parla, anzi vengono anche molto elogiati dai professionisti della nutrizione perché sono molto bravi, molto diligenti. La diagnosi spesso richiede invece la presenza di un professionista, di uno specialista, in genere uno psicologo è quello che fa proprio la diagnosi di ortoressia. E il soggetto più si trova all'interno di questo quadro e più è convinto che siano gli altri che non capiscono. Quindi sono gli altri che non capiscono, gli altri che sbagliano, gli altri che non se ne rendono conto. Il trattamento di un soggetto con ortoressia richiede la presenza di più specialisti, quindi sia lo psicologo sia il nutrizionista. Se siamo in una fase compromessa naturalmente serve anche il medico che possa valutare la prescrizione di alcuni trattamenti farmacologici e quindi comprendete bene che l'ideale sarebbe non raggiungere questa condizione. Questi aspetti li abbiamo visti, ecco vi ne ho citati alcuni, le gallette di riso per esempio il pollo, l'albume, il tonno, la bresaula, anche tutti quanti gli affettati e gli insaccati per via dei conservanti che contengono, in particolar modo nitriti e nitrati, sono molecole che poi diventano nitrosamine e sono altamente cancerogeni. L'acqua che va benissimo introdurla, molto spesso chi è affetto da ortoressia o chi si trova all'interno di questo tipo di binomio tende a berne però quantitativi esagerati, fuori dalla logica rispetto alle sue caratteristiche, questo può portare a situazioni in acuto come l'iponatremia o condizioni in cronico come può essere la potomania, la disregolazione dei centri superiori, quindi diventa tutto quanto un problema. Spesso si demonizzano intere classi di alimenti, quante volte ho letto sui social di veleni bianchi, riferito al sale, allo zucchero, alla farina, non sono veleni, sono prodotti che noi possiamo tranquillamente introdurre, ma che vanno introdurre, introdotti nella giusta quantità. Quindi non esiste il concetto di cibi velenosi, cibi da demonizzare, la carbofobia, quindi la demonizzazione dei carboidrati o peggio la demonizzazione dei grassi che dobbiamo introdurre perché alcuni sono perfino indispensabili. Quindi tutto quanto questo non ci sta portando ad una condizione positiva, ma ci sta esponendo invece ad una situazione ossessiva e quindi negativa. La preparazione anticipata dei pasti, prima vi parlavo di giornate libere, quindi dello sgarro. Lavare il riso prima di mangiarlo. Beh sì, se il riso viene da qualche parte del mondo non propriamente idonea, potrebbe avere anche una contaminazione da parte di sassolini o altri prodotti, ma se io lo faccio per ridurre l'amido o per altre ipotetiche situazioni di questo tipo, non ha certamente nessun tipo di validità. Andiamo un attimo avanti. Quindi anche il nutrizionista che vi dicevo prima appartiene alle categorie al rischio e dovrebbe essere il primo innanzitutto a salvaguardarsi. Perché anche i professionisti possono essere all'interno di questo contesto? Perché naturalmente c'è anche una pressione sociale. Cioè io vado da un nutrizionista, mi aspetto che non sia obeso per esempio. E quindi l'idea che il nutrizionista non debba essere obeso fa sì che lui per primo comincia ad avere delle attenzioni che poi possono sfociare nella maniacalità e quindi diventare egli per primo vittima della situazione. Ma la famiglia è sempre coinvolta e quindi quando si fa una terapia o un'azione preventiva è sempre importante che sia coinvolta interamente anche la famiglia, che sia di supporto rispetto al familiare che ha questo genere di problematiche. In genere si fa proprio una terapia familiare per andare a individuare dove può esserci l'elemento che non consente tra virgolette la guarigione, chiamiamola in questo modo. Abbiamo poi proprio dei regimi alimentari che tendono a essere ortoressizzanti e che vengono anche molto promossi e molti di questi non hanno naturalmente nessuna base scientifica, però le persone si legano a questi aspetti e cominciano a dire anche ah ma io l'ho fatto e funziona. C'è questa maledetta affermazione, l'ho fatto e funziona. Sì, l'hai fatto e funziona, questo è vero, ma il fatto che funzioni non significa che sia corretto. In che termini? Molto spesso questo tipo di alimentazioni che poi ci espongono a situazioni sbagliate funzionano semplicemente perché noi prima avevamo un'alimentazione smodata e se io decido per esempio che tutti i derivati del latte mi fanno male, anche se non è vero, li elimino to cure, ebbene allora comincerò a togliere i biscotti al latte, comincerò a togliere tutti quanti i formaggi, tutti i prodotti che sono anche normalmente grassi. Se io vado a togliere tutti quanti questi prodotti, avrò un calo enorme nelle calorie che sto introducendo, dimagrisco, sto meglio, mi sento meglio. Ma non era il latte e i suoi derivati a creare il problema, era il fatto che mangiandone in quella quantità mi creavano dei problemi. Se comincio a dire le farine non vanno bene, le farine sono veleno, tolgo tutte le farine, tolgo la pasta, tolgo il pane, tolgo i cracker, tolgo i biscotti, anche qui ho una riduzione drastica della quota calorica. Quindi non è che sta funzionando temporaneamente, ho un risultato che io scambio per qualcosa di positivo, ma che positivo non è. E qui ciascuno poi a seconda della linea dell'ortoressia si lancia nell'una o nell'altra cosa. Vi leggo un passo, ve lo leggo testualmente, quindi eventuali errori sono proprio esattamente come è scritto, non voglio alterare nulla. È all'interno del libro che ho scritto sulla ortoressia e ci sono anche delle storie che ho raccolto. E c'è questa persona che scrive, ogni anno, ve lo ripeto, scusate se sono ripetitivo, lo leggo testualmente, ogni anno faccio l'errore di venire al sud senza avere comprato le proteine in polvere per la sopravvivenza. Confinata in una casa in cui fino alle 14 non ci si siede nemmeno a tavola e non sono nemmeno sicura che ci sarà qualcosa in tavola o nel frigo appropriato al mio regime. E qua sono tutti grassi, esistono praticamente solo carboidrati, salumi e dolci. Odio il Natale con tutto il cuore. Nessuno legge appropriatamente, devo sgarrare con salsiccia, salumi e formaggi? Non c'è una cucina per cui valga la pena sgarrare. Sono qui per i miei genitori, che lo meritano, ma è chiaro che stavo meglio a casa. Volevo fare la spesa, ma loro dicono sempre tranquilla. Si sa che alla fine, tranquilla che fine ha fatto. Del Natale non me ne frega niente. Fare la dieta per me è di primaria importanza e di sicuro mi sarei svagata meglio da sola a Milano. Il fatto che nessuno pensi alle mie esigenze la dice lunga. Mia mamma è inaffidabile e lei sa bene cosa mangio. Se io voglio continuare a seguire la mia dieta anche a Natale, non è perché sono fissato, risponde un altro, ma per una questione psicologica. Se non la seguo non mi sento bene con me stesso, non sto rispettando i patti con me stesso. C'è gente che con una giornata di sgarro perde davvero risultati preziosi e non parlo a livello fisico, ma a livello psicologico. E ci sono poi tutta quanta una serie di commenti che seguivano questa discussione, tra cui una compagna che dice l'ho visto accadere anche io da molto vicino, prima la fissazione per il cibo e l'allenamento, le lacrime, l'eterna insoddisfazione, l'isolamento e poi passare da un'ossessione all'altra, convincendosi di essere guarito. E tu sei lì che vieni trascinata nel baratro. C'è un'altra che risponde ancora, poi smetto di leggere e torno nuovamente da voi, dice fosse solo la fissazione del corpo. Il problema sta nel fatto che poi la normalità delle cose viene sminuita, svalorizzata, svalutata. Se sei in compagnia di persone così ti fanno sentire in difetto, perché questo, ripeto, compromette tutta quanta la sfera sociale. Ti fanno sentire in difetto se mangi per una mezza volta con un filo d'olio in più, facendolo notare che hai messo già la pancia. Anche se te ne scappi, per questa gente ti rimane sempre il dispiacere. Io avevo smesso di cucinare perché ogni tentativo provocava diffidenza o disgusto. Questa è una persona che viveva con una persona con ortoressia. Gli eventi conviviali come il pranzo di Natale erano la scusa per una intensificazione ossessiva dell'attività fisica, ogni discorso finiva per incentrarsi sul cibo. Perché queste persone poi parlano sempre di cibo. Fondamentalmente cercano il pretesto, quando si è a tavola, quando si è con gli altri, per parlare di cibo. Queste persone hanno un problema perché la loro prestanza fisica è nascosta da una parvenza di salutismo. E poi c'è il narcisismo. Lo sguardo ammirato degli altri diventa una specie di droga. Ecco, meglio di quello che vi ho potuto descrivere io sin qui, sono le parole di queste persone che hanno vissuto o vivono con soggetti con ortoressia. E quindi affermano che lo sguardo degli altri viene percepito da chi ne è affetto proprio come una droga. E quindi va alimentato anche questo. Mi fermo ancora una volta per chiedere se ci sono delle domande. Ecco qua. Allora sì, c'è Paola che più che una domanda dà una sua considerazione. Dice non conoscevo questo argomento, sono molto interessato alla corretta alimentazione, devo dire che i social sono davvero un pozzo senza fondo per messaggi contraddittori. Sì, concordo al 100%, anche perché il problema dei social è che noi non sappiamo mai le caratteristiche di chi sta lanciando un messaggio. Ecco perché sono contraddittori. Ora non voglio fare la filippica che purtroppo spesso faccio anche ai miei studenti quando mi fanno notare questo aspetto, però noi dovremmo individuare, dovremmo essere in grado di riconoscere la qualità delle informazioni. Se io vado a prendere una ricerca scientifica, o meglio ancora, vado a prendere una revisione sistematica della letteratura, c'è qualcuno che si incarica di leggere la letteratura scientifica e poi di vedere cosa dice, non troverà mai incongruenza. Cioè gli studi scientifici sono tutti coerenti tra loro, al contrario di quanto non si creda. Se io prendo il singolo studio, dato che magari non ho gli strumenti per capire quanto bene è stato fatto, potrei trovarlo in contraddizione con un altro. Figuriamoci se poi, semplicemente sui social, vado a leggere quello che potrebbe scrivere chiunque, non cito professioni per non essere frainteso, che però magari fa tutt'altro nella vita, che può essere un architetto, un ingegnere, un falegname, un estetista, un chirurgo estetico, che però evidentemente il loro focus non è l'alimentazione. Ecco perché i messaggi sono contraddittori sui social, perché tutti li lanciano. Comunque vi faccio un elenco delle possibili forme di ortoressia, c'è chi si è preoccupato anche naturalmente di vedere questo, quindi sono stati classificati in vario modo, gli ortoressici positivi, quelli salutistici, quelli etici, quelli quantitativi. Per esempio gli ortoressici positivi tendono a enfatizzare gli alimenti da promuovere e attribuiscono delle virtù che però sono sovradimensionate. La frutta va bene, se mangiate solo frutta vi arriveranno i trigliceridi a palla e avrete il colesterolo ancora peggio, anch'io sto esagerando in questo modo, o meglio sto semplificando, nel senso che non c'è un singolo alimento. Però è vero che il metabolismo del fruttosio, che è lo zucchero della frutta, ha in grandissime quantità, e non certo perché mangio due o tre porzioni di frutta che invece sono il minimo sindacale nella nostra dieta, portano poi ad avere delle problematiche. Quindi non c'è un alimento che singolarmente... L'olio d'oliva è ottimo, contiene antiossidanti, contiene acido oleico, ma naturalmente se io ci mangio mezzo litro di olio, mangio mezzo litro di olio ogni volta che preparo, evidentemente questo non va bene. Quelli salutistici, quindi hanno avuto i vegani, la dieta macrobiotica, la paleodieta, la dieta dei gruppi sanguigni che peraltro non ha basi scientifiche, tende a eliminare interi gruppi che vengono ritenuti dannosi, gli ortoressici etici, cioè quelli che cominciano a diventare gradualmente vegetariani, e per carità non c'è nulla di male, non sto dicendo che i vegetariani siano ortoressici, perché ogni volta devo stare attento a non essere frainteso, vi sto facendo notare l'escalation dell'etica, quindi da vegetariani non utilizzo animali vivi, ma utilizzo i prodotti degli animali, quindi le uova, il latte, al vegano che non introduce neanche questo, ai fruttariani che non introducono altro che frutta, ai fruttariani simbiotici che mangiano soltanto la frutta spontaneamente caduta, perché uno se vuole fare un'escalation in qualunque direzione la può fare, quindi si parte da una cosa assolutamente corretta, accettabile se uno ama farla, come può essere l'alimentazione vegetariana, sino però ad un'esasperazione, i fruttariani simbiotici, insomma mangiare solo la frutta raccolta perché è cascata per terra, non è esattamente un approccio idoneo. Gli ortoressici quantitativi, cioè quelli che fanno sempre una ricerca per perdere peso e poi in realtà se andiamo a vedere restano più o meno sempre in sovrappeso. Quelli globalizzati, cioè partono da un modello alimentare che magari funziona in una piccola regione del Giappone, in una piccola regione della Sardegna che peraltro ha una buona storia di longevità e pensano di poterla applicare a tutto il mondo, ma non è così perché le variabili ambientali sono un elemento determinante. Gli ortoressici matematici, quelli che riconducono tutto ai numeri, quindi il 20 di questo, il 30 di quello, il 40 di quello, perché anche questo ci dà un'idea di semplificazione e quando le cose diventano semplici cominciano a piacerci un po' di più. Quindi si può estendere in vario modo, ma invece citando un'altra ragazza che è stata vittima di ortoressia, ci dice il problema non è che stavo mangiando frutta e verdura cruda, quindi il problema non è chi mangia frutta e verdura, il problema è che mi proibivo di mangiare cibi che desideravo ancora. Quindi è questo il punto, mi proibivo di mangiare cibi che desideravo ancora. Quindi può accadere praticamente sempre. Le difficoltà comunicative con chi è ortoressico è inevitabile che ci siano. Facciamo solo attenzione a non scambiare il salutismo per ortoressia, quindi l'attenzione per quello che portiamo a tavola va assolutamente bene, così come non dobbiamo scambiare la passione per l'attività fisica che è positiva con invece il concetto di ortoressia, perché se poi noi facciamo questo andiamo a compromettere tutto quanto quello che abbiamo detto perché diventiamo anche noi parte del problema, visto che lo andiamo a banalizzare. Quindi l'ortoressia è una cosa, il salutismo è un'altra. Dei social network già vi ho detto e per rispondere anche a chi aveva fatto il commento prima, mi scuserà se non ricordo il nome, il 60% degli utenti usa i social per averire informazioni sull'alimentazione. Il 60% delle persone si rivolge ai social, poco meno del 30% con libri sul tema, meno del 20% a medici o nutrizionisti. Ecco, direi che questa è evidentemente la causa principale del problema, il fatto che non ci si rivolge poi al professionista o a dei testi scientifici, ma a quello che troviamo in rete. Ecco qua, c'è Gianni che dice perché spesso sono i genitori a non voler vedere il problema dei figli in fatto di alimentazione? Questo è drammatico, purtroppo è vero, i genitori spesso non lo vogliono vedere perché loro per primi riconoscerlo nei figli è una missione di responsabilità genitoriale e siccome non vogliamo essere colpevoli di nulla preferiamo lasciare il problema. E poi c'è un altro aspetto, se parliamo per esempio di sovrappeso e di obesità dovete sapere che i figli di un genitore obeso tendono a essere percepiti dal genitore meno obesi a loro volta e se il genitore obeso è la madre ancor di più cresce questa percentuale, se sono obesi entrambi non è per mala fede ma è proprio perché c'è una percezione distorta anche della fisicità dei figli. Quindi purtroppo sì, i genitori molto spesso non vedono il problema né vogliono trovare troppo tempo per affrontarlo perché poi significa anche i genitori sottrarlo dai social network. Fondanamora, non voglio essere paternalistico però purtroppo è anche questo. Oh Maria, dice come non sfociare nell'ossessione dell'ortoressia pur mantenendo una vigile attenzione a ciò che si mangia? Semplicemente continuando a condividere i momenti di socialità con gli altri già è uno strumento più che sufficiente non sentirsi in colpa, visto che colpe non si hanno, per quei pasti che non possiamo fare con la diligenza che vorremmo. Quindi semplicemente si tratta di, a proposito di genitori, di utilizzare con noi stessi quello che probabilmente faremo con i nostri figli. Cioè vogliamo che si comportino in un certo modo ma gli diamo un margine di flessibilità. Quindi vorrei che studiasse 8 ore però se ne studia mezz'ora in meno tutto sommato può anche andare bene, non è che pianto lì una grana per quel motivo, vorrei che giocasse al pc mezz'ora, se gioco a 40 minuti non pianto una grana. Quindi cerco di rispettare l'alimentazione corretta tutte le volte che posso farlo, le volte che non posso farlo non deve diventare una malattia. Grazie Maria. Chiara, per chi ha affrontato una dieta e tenta di mantenere un regime alimentare equilibrato e corretto, mi rendo conto che a tratti si può sconfinare in un approccio di cibo estremista. Sì, perché poi molto spesso si ha timore di tornare alla condizione in cui avevamo prima. Quindi se magari ho perso tanti chili o anche non tanti, ho perso 5 chili, adesso mi vedo in forma perfetta e penso che con mezzo chilo altro la situazione, allora è inevitabile che ho sempre questa ansia di compromettere tutto. Occorre considerare che per fortuna, ecco in questo caso può essere utile pensare a quanto tempo abbiamo impiegato per tornare in forma, ce ne abbiamo messo un bel po', e sappiate che più o meno il tempo che ci serve per perdere totalmente la forma in genere è simile, più o meno la quantità di tempo è uguale. Quindi così come stare a dieta tre giorni su un soggetto che è fuori forma non produrrà nessun tipo di beneficio, quindi non tornerà in forma, allo stesso modo una persona che è in forma non è facendo tre giorni di libertà alimentare perché si prende un weekend lungo per andare via che va a compromettere la situazione. Anzi, deve godersi quei tre giorni perché proprio l'idea di poterlo fare non ci fa scattare le voglie. Se invece comincio a pensare che non devo mangiare il gelato, non devo mangiare un biscotto, non devo mangiare una mandorla, non devo mangiare gli arachidi, non devo bere uno sprizzo, non devo fare nulla, allora comincio ad aver voglia solo di quello, solo di quello che non posso fare. Bene, a questo punto direi che non vedo più domande, sono oramai le dieci, siamo in perfetto orario e a questo punto possiamo chiudere la nostra serata, come sempre ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito, quelli che ci seguiranno perché essendo una diretta il video resta registrato e auguro a tutti una buona serata e un grande grazie al dottor De Pascalis che ci ha dedicato questo tempo perché come dico sempre il tempo è prezioso per tutti ed è il nostro bene più prezioso e quindi grazie per il dono che ci ha fatto. È solo un piacere per me, sono io che ringrazio e è davvero un piacere. Benissimo, grazie a tutti di nuovo, buona serata. Grazie, grazie, una buona serata.